Ian, ti abbiamo visto alla fine parlare con il mister e ti hai detto che ci mettiamo a quattro. È stata un po' la mossa della disperazione nel finale, quando il Teramo ha provato a provarle tutte, però stasera non si è visto un bel Teramo. No, infatti non è bello parlare dopo partite del genere, perché non abbiamo fatto una prestazione convincente in una partita così importante che sapevamo di che cosa si gioca, quindi poi alla fine ho avuto un po' di piccolo problema al ginocchio, quindi probabilmente per questo mister mi chiedeva come sto, non era un problema passare tra tre a quattro, quindi è questo qua. E poi comunque come hai detto oggi la prestazione non era convincente, purtroppo così. E allora ne approfitto subito, come stai del problema al ginocchio? No, penso che dopo la partita sono sempre un po' stanco, come è normale, quindi adesso in tre giorni dobbiamo recuperare per un'altra partita importante in casa, quindi bisogna stringere i denti e andare avanti. Queste partite sono delle battaglie questa sera, il Teramo non è sembrato quello da battaglia che avevamo visto, per esempio sabato contro il Rimini? Sì, sì, sono d'accordo, anche il campo era un po' pesante, quindi si capiva subito che sarà una partita di questo tipo, e non siamo riusciti a metterla come volevamo, quindi sotto l'aspetto del gioco oggi non siamo riusciti a fare quasi niente, veramente poco. Psicologicamente il fatto di aver perso uno scontro diretto e che l'avversario vi abbia agganciato in classifica è una difficoltà in più? Guarda che il campionato è ancora lungo, mancano tantissime partite, quindi fra due settimane si può cambiare la situazione di nuovo, già sabato si cambia la classifica, quindi siamo ancora troppo distanti dal fine del campionato, quindi penso che meno si guarda la classifica in questo momento meglio è, perché si aumenta magari la pressione, quindi secondo me non dovrebbe essere un problema in questo momento. A sabato si torna in campo contro il Monza, che è avversario totalmente diverso sia da Rivini che da Alfano, ci vorrà un'altra partita? Sì, sì, sarà una partita penso simile come contro Feral Pessalò in casa, quindi dobbiamo imparare non fare quegli errori che abbiamo fatto perché l'avversario così bravo ti punisce, quindi sarà una partita diversa, però secondo me è un campionato così equilibrato che si può giocare veramente tutti con tutti, quindi non mi preoccupo per avversario.